Musica Resta impunito l'omicidio di Fazio Cirolla, ucciso per errore nel 2009 a Cassano allo Ionio. La corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza d'appello, assolvendo con formula piena e due imputati. A tre anni all'omicidio di Fabiana, il dolore della famiglia Luzzi è immutato. Ai nostri microfoni, il padre della ragazza, uccisa e bruciata viva a Coriano Calabro, dice «giustizia non è stata fatta». Più di 3.000 tonnellate di rifiuti pericolosi sarebbero state smaltite a Bisignano. Il caso diventa politico nel Cosentino. Intanto, alla mezza terme, la Ecosystem, azienda coinvolta nell'inchiesta a Tempa Rossa, si difende, dice, «nestuna violazione di legge». La Calabria, sbeffeggiata sui social per un dépliant che la giornalista Selvaggia Lucarelli ha definito «opera di peracottari». Il presidente Oliverio le dà ragione e se la prende con la burocrazia, sciatta. Il Codacons denuncia il fatto alla magistratura contabile. I sindaci della Locride in piazza chiedono al governo di rispettare gli impegni assunti con il territorio e annunciano una manifestazione di protesta a Roma. Comitato contro il silenzio e il mobilismo nella trasversale delle Serre, l'opera incompiuta da 50 anni. Grande successo al Garden di Rende per la performance di Carlo Bucirosso, sold out per lo spettacolo. Buonasera dal TGTN, dunque assolti con formula piena dalla Cassazione i due imputati accusati dall'omicidio di Fazio Cirolla, l'operaio ucciso per errore a Cassano Loionio nel 2009. Un delitto che rimane dunque senza colpevoli. Sentiamo. Un omicidio senza colpevoli. Il delitto di Fazio Cirolla, assassinato per errore a Cassano Loionio sette anni fa, rimane impunito. La Cassazione infatti ha assolto con formula piena i due imputati, Argentino Pescio e Savrio Lento, già condannati dalla Corte d'Appello di Catanzaro a 30 anni di reclusione. Era il 27 luglio del 2009, quando in quest'autosolone venne freddato con alcuni colpi di pistola alla testa Fazio Cirolla, operaio incensurato che quel giorno si trovò nel posto sbagliato, al momento sbagliato, ad assistere alla scena il figlioletto di appena sette anni. Cirolla fu ammazzato per sbaglio, come hanno accertato le indagini coordinate sin dal primo momento dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto. L'uomo fu scambiato per un altro e i killer lo uccisero sparandogli a bruciapelo tre colpi di pistola alla fronte. Il vero obiettivo era il titolare della concessionaria, Salvatore Lione, ritenuto dagli inquirenti, il contabile della Cosca Fora Stefano. Quel giorno riuscì a saltare da una finestra sfuggendo ai sicari. Quello di Fazio Cirolla fu un omicidio efferato che suscitò sdegno e commozione. Il PG della Suprema Corte aveva chiesto la conferma della condanna a 30 anni per i due imputati, ma dopo le arringhe delle parti civili e della difesa, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza di assoluzione. A tre anni dall'omicidio di Fabiana Luzzi il dolore della famiglia resta immutato. Al microfono del nostro direttore a Tito Sabato il padre della ragazza uccisa e bruciata viva Corigliano Calabro dice giustizia non è stata fatta. Sentiamo. Il tempo può lenire il dolore? Il tempo non lenisce nulla, il tempo distrugge, il tempo massacra, il tempo distrugge completamente le famiglie, le vittime eterne che rimaniamo su questa terra per noi maledetta. Ripercorre i freni di quei giorni terribili ogni tanto? Si ripercorrono tutti i giorni, non c'è momento che non si rivive la situazione, principalmente nell'immaginazione di come ci ha ridotto nostra figlia. Una ragazza splendida, bellissima, gioiosa, intraprendente, ballerina che amava la vita, amava la sua famiglia, amava gli amici, amava vivere. Cosa rimane di Fabiana? Fabiana mi rimane tutto. I suoi 16 anni mi rimane dal momento che l'abbiamo concepita a quanto il 24 maggio purtroppo un mostro ha deciso solo di portarcela via. C'è qualche rimorso che si porta dietro? Rimorso per quello che noi abbiamo sempre fatto, tenendo sempre uniti la nostra famiglia, accompagnando ovunque le nostre figlie, in ogni momento, a danza, a scuola, a mangiarsi la pizza. Noi abbiamo mai a uscire insieme sul Longo Mare di Schiavoneo o altrove, dovunque siamo stati, sempre ed unicamente insieme. e quindi pensavamo di proteggerla, però lui ce l'è andata a rubare, a sequestrare e a distruggere. Colui? L'assassino. Lui l'assassino. Ha distrutto la vita di Fabiana, l'esistenza di Fabiana, un mondo intero che ogni figlia e ogni figlio per un genitore rappresenta. I giorni sono tutti uguali per lei, adesso? Sono sempre peggiori, perché mentre passa il tempo, realizzi che purtroppo quella stanza rimane sempre vuota, quel piatto rimane sempre senza sporcarsi, proprio ieri lo dicevano con mia moglie, perché noi tutti i giorni apparecchiamo anche per Fabiana. E la giustizia? La giustizia, come lei me la dovrebbe insegnare, almeno per noi, non è esistita e non esiste. Se avessi la possibilità di parlargli un attimo, cosa gli direbbe? Ma non c'è il pensiero di parlare cosa dire, c'è soltanto il pensiero di agire. Che cosa è per lei la speranza? Ma noi come vittime non nutriamo speranze, né nella giustizia, né nello Stato, perché avete visto tutti come siamo stati trattati, e né in un domani, perché non lo sappiamo domani cosa ci può succedere. Torniamo ad occuparci dell'inchiesta sul petrolio, dei risvolti calabresi, di questa indagine. Come sapete, i rifiuti illeciti sarebbero stati smaltiti a Bisignano, la mezza terme Gioia Tauro, sei gli indagati, a Bisignano nel Cosentino il caso diventa politico, mentre alla mezza terme la Ecosystem si difende, dice, non c'è stata alcuna violazione di legge, il servizio. Sarebbero 3.200 le tonnellate di rifiuti illeciti smaltiti in questo impianto a Bisignano in provincia di Cosenza e quanto emergerebbe dall'inchiesta a tempo rossa della Procura di Potenza. In due anni, nel 2013 e nel 2014, scarti pericolosi sarebbero arrivati nel territorio bruzio, veleni finiti dove il caso diventa politico ed è il comune ad esprimere preoccupazione e puntare l'indice contro l'opposizione che ha perorato, scrivono, la causa della Consuleco, difeso i posti di lavoro incuranti dell'ambiente e del territorio. Alla minoranza l'esecutivo chiede oggi una presa di posizione chiara. Alla mezza terme l'azienda Ecosystem, coinvolta nella stessa vicenda del presunto smaltimento di rifiuti pericolosi provenienti dal centro Oli di Vigiano, a volere chiarire la propria posizione. Per quanto ci riguarda, spiega l'amministratore delegato Salvatore Mazzotta, che è un avvocato, non c'è stata alcuna violazione di legge o smaltimento illecito. È precisa che il codice al rifiuto lo attribuisce per legge il produttore e la pericolosità del rifiuto viene stabilita dalle analisi chimiche di caratterizzazione dello stesso effettuato dai laboratori su commissione del produttore. L'Ecosystem, precisa Mazzotta, è appaltatore e produttore. Infine l'amministratore delegato conferma la disponibilità dell'azienda a collaborare con la magistratura. Intanto i carabinieri del NOE continuano le indagini in Basilicata. Stanno acquisendo le cartelle cliniche per verificare l'incidenza dei tumori. Si procederà così anche a Bisignano la mezza terme Gioia Tauro. Vedremo nei prossimi giorni dagli sviluppi dell'inchiesta nella quale risulterebbero indagate sei persone in Calabria. Voto zero alla comunicazione regionale della Calabria dalla parte della giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice di Bando con le Stelle e blogger. Una brochure che pubblicizza il territorio calabrese, il turismo calabrese, presenta errori grossolani e scelte, immagini di dubbio, gusto. Naturalmente scoppia il caso politico e virtuale. Sentiamo. Questo è l'arco magno di San Nicola Arcella, uno dei luoghi più suggestivi della nostra regione. Queste foto sono soltanto alcune delle tante che si possono trovare sul web e restituiscono un'immagine realistica e accattivante della spiaggetta che trasmette all'osservatore sensazioni positive e magari fa venire voglia di immergersi nel mare cristallino circondato da rocce. Saranno questi i motivi che hanno convinto i dirigenti del settore turismo della regione Calabria o chi per loro, a puntare anche su questo luogo per pubblicizzare l'immagine e le bellezze naturali del nostro territorio su una brochure distribuita a bordo della flotta Ryanair. Peccato che chi ha realizzato questo lavoro ha utilizzato immagini molto meno edificanti, notate dalla blogger Servaggia Lucarelli che in un post su Facebook evidenzia le brutture della campagna pubblicitaria finanziata da fondi europei che si è già trasformata in un boomerang comunicativo. Foto che in effetti non sono proprio all'altezza della bellezza dei luoghi dal punto di vista qualitativo e sporcate, per così dire, dall'inopportuna e invasiva, almeno in relazione allo scopo dell'attività promozionale, presenza di bagnanti, uno addirittura con il costume indossato a fatica che non copre totalmente le natiche e accessori da mare abbandonati sulle caratteristiche rocce. Una caduta di stile che ha scatenato una polemica social e politica, le scelte discutibili e gli errori grossolani presenti nelle diciture come quella R di Troppo, appesa alla parola aeroportuale, hanno provocato l'intervento del Codacons che ha deciso di denunciare la magistratura contabile la campagna pubblicitaria, chiedendo la verifica delle responsabilità e dei costi affrontati per la realizzazione della pessima, secondo l'associazione, attività promozionale. E la regione? Il presidente Oliverio si è schierato con la blogger. Il governatore ringrazia Lucarelli per la segnalazione di una vicenda senza giustificazioni, definisce la brochure una porcheria, frutto della burocrazia sciatta e indolente e annuncia l'apertura di un'indagine conoscitiva. La Calabria merita altro, conclude Oliverio, e non possiamo che essere d'accordo, ma intanto la brutta figura l'abbiamo fatta tutti noi e non è la prima e non sarà l'ultima, perché di sciatti e indolenti, evidentemente, la burocrazia regionale è piena zeppa. Ci sono diverse relazioni anche politiche, Iole Santelli, deputata e coordinatrice di Forza Italia, dice l'imbarazzo di Oliverio sulla pubblicità per la Calabria e poi Morra di 5 Stelle, un fatto gravissimo, se la prende ogni giornalisti della regione. Andiamo ancora avanti, presideranno per tre giorni Palazzo Chigi, sindaci della Loquide, per rivendicare attenzione nei confronti di un comprensorio abbandonato e afflitto da tante emergenze, iniziale da sanità, decisione nel corso di una riunione che si è tenuta a Siderno in cui si è parlato anche del caso Minniti Platì, del Vescovo Oliva e della Presidente della Commissione parlamentare, Rosi Bindi. Marisa Fallico, sentiamo. Eccoli qui, ancora una volta insieme, i sindaci della Loquide, riuniti a Siderno per assumere iniziative forti nei confronti del Governo nazionale che, al di là delle promesse e degli impegni di circostanza, di fatto continua ad essere distante e disattento verso questo comprensorio. I primi cittadini che da tempo in questo angolo difficile della Calabria hanno deciso di fare rete per rivendicare i servizi essenziali a cominciare dalla sanità indebolita, depotenziata che quotidianamente lottano per dare risposte e garantire legalità e trasparenza, il 3, 4 e 5 maggio saranno a Roma per protestare davanti Palazzo Chigi. Saranno ascoltati, ci sperano. Ma la riunione è stata anche occasione per esprimere solidarietà al Vescovo Oliva oggetto di inaspettate critiche da parte della Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, per aver concesso i locali della parrocchia di Platì al Comitato Liberi di Ricominciare per protestare contro le affermazioni del sottosegretario Minniti. Ha paragonato il radicamento del terrorismo jihadista Bruxelles all'andrangheta di Platì. Il presule ha fatto pervenire una lettera ai sindaci in cui li ringrazia e rassicura di aver chiarito tutto con la Bindi. Sono certo che fate questo per confermare la stima a vostro Vescovo. Io vi ringrazio ma ci tengo a precisare che si è trattato di un grosso lontro e un grosso equivoco. Il rappresentante del Comitato di Platì, Rosario Sergi, dal canto suo, ha riaffermato lo sdegno dei cittadini per le dichiarazioni di Minniti. Noi cittadini, liberamente intervenuti all'Assemblea, ci dichiariamo offensi, umiliati e frustrati per la dichiarazione rilasciata dal sottosegretario onorevole Marco Minniti all'esito di una riunione di un disambulazione di Gigi. Nessuno vuole nascondere la verità sminuendo la presenza dell'andrangheta ma accostare Platì all'emergenza ISIS quello no. Dalle istituzioni ci si aspetterebbero risposte concrete e non strumentalizzazioni o retorica di comodo. Ricordate le passerelle per la mancata presentazione delle liste elettorali? Gli impegni solenni? Tutti evaporati appena spenti i riflettori. Forse su questo la politica dovrebbe riflettere. 50 anni di attesa per la trasversale delle serre se ne continua a parlare nasce un comitato contro il silenzio. Anna Franchino. Queste immagini sono state girate sette mesi fa e mostrano un'opera finita o quasi e mai entrata in funzione. È una delle tante contraddizioni tutte calabresi. Parliamo della strada statale 713 più conosciuta come trasversale delle serre progettata nel 1956 doveva collegare la sfonda tirrenica nei pressi di Vibo Valencia con quella ionica di Soverato attraversando il territorio delle serre calabresi. Sui cantieri della superstrada si continua ancora a lavorare ma di apertura al traffico non se ne parla minimamente. E allora è nato un comitato spontaneo denominato trasversale delle serre 50 anni di sviluppo negato che si è costituito contro il silenzio l'immobilismo e i ritardi di quest'opera che stenta a vedere la luce. Attualmente sono pochissimi chilometri che sono stati messi in esercizio e poi alla base di tutto c'è anche una cosa scandalosa che ancora non si è risolta sarebbero i 3,8 chilometri di tratto tra Argusto e Gagliato finiti da diversi anni ed ancora non messi in esercizio. A titolo di cronaca diciamo che adesso stanno lavorando per sopperire alcune deficienze credo strutturali su un pilone per cui dovrebbe essere cosa di qualche giorno insomma l'apertura al traffico di questo breve tratto però il problema nel tratto che riguarda almeno il Chiaravallese risiede nello svincolo di Chiaravalle perché avevano iniziato a lavorare per congiungere l'asta principale che viene da Serra e va a finire poi a questo svincolo che dovrebbe essere aperto ma i lavori si sono bloccati ma la cosa che vorremmo sottolineare è che nonostante i nostri servizi i nostri articoli sul giornale mai Anas ha risposto chiaramente come se all'opinione pubblica non interessasse quello che sta succedendo ha soverato la conferenza stampa di presentazione del comitato a cui hanno preso parte giornalisti e liberi cittadini per porre l'attenzione su una vicenda veramente paradossale quest'opera incompiuta sta condannando il territorio all'isolamento ed il comitato nasce con l'obiettivo di dare eco nazionale al caso trasversale mezzo secolo per realizzare una strada di soli 50 chilometri che in alcuni tratti è costata circa 8 milioni di euro a chilometro si è deciso di partire da soverato comune non interessato dalle prossime amministrative ma il comitato ha l'intenzione di raccogliere consensi e firme in tutti i comuni interessati dall'importante infrastruttura la prossima iniziativa pensiamo di svolgerla proprio a Gagliato che è il luogo simbolo in questa zona del disastro di questa trasversale delle serre e Gagliato è un territorio relativamente piccolo su cui insistono circa 2 chilometri di strada già pronti per essere percorsi dai veicoli per oscure ragioni ancora questo tratto di strada non è stato aperto non è stato inaugurato è l'ennesimo scandalo che fa il paio con la recente relazione dell'autorità anticorruzione nazionale Comitato per l'ordine sicurezza pubblica a Reggio Calabria dopo gli ultimi inquietanti episodi di cronaca il procuratore Caffiero De Rau assicura l'attenzione resta alta Convocata dal prefetto di Reggio Calabria Claudio San Martino si è svolta una riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine alla quale hanno preso parte la locale procuratore della Repubblica il titolare della direzione di settore antimafia il questore e i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza L'incontro è stato incentrato sull'aggiornamento dello studio della sicurezza pubblica della provincia e in particolare del capoluogo alla luce dei recenti eventi criminosi Sono stati esaminati i contesti territori della città in cui sono avvenuti gli atti delittuosi e sui quali gli inquirenti stanno lavorando alla cremente senza sosta Sono state poi confermate ulteriormente incrementate in maniera incisiva e articolate le azioni di vigilanza e controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine come ha sottolineato il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria Federico Caffiero De Lau Devo dire che le indagini si stanno sviluppando in tutte le direzioni proprio perché i quartieri nei quali si nota quel fermento che già da novembre è andato via via mostrando aspetti sempre più gravi richiede una grande attenzione non soltanto però sotto l'aspetto repressivo ma anche sotto quello preventivo di controllo del territorio certamente guardarli isolatamente per quanto alcuni possono avere una propria causale autonoma distinta vederli isolatamente significherebbe perdere la visione unitaria che invece è la prima visione che bisogna avere sull'andrangheta e è chiaro che quello che avviene nel territorio è guardato in modo unitario ma certo stiamo lavorando su entrambe le questioni che lei ha evidenziato e certamente il problema collaboratori di giustizia che poi rientrano sul territorio e che riprendono i loro contatti con le stesse persone con le quali una volta costituivano un tutto unitario è evidente che è una patologia che va guardata con grande attenzione è attesa in queste ore la sentenza del processo denominato nuova famiglia sulla cosca Rango Zingali di Cosenza a carico dei 35 imputati che hanno scelto il rito abbreviato altri 12 hanno optato invece per il rito ordinario il PM Pierpaolo Bruni ha chiesto pene complessive per 500 anni tra cui l'ergasto per il presunto boss Malovizio Rango accusato non solo dell'associazione mafiosa ma anche dell'omicidio del rampollo del clan Bella Bella di Cosenza Luca Bruni ucciso nel 2012 il cui cadavere è stato fatto poi ritrovare a castro libero dai pentiti un clan che secondo gli inquirenti ha visto la federazione tra nomadi italiani che sarebbe imposto sullo scenario criminale della città di Ebruzzi e dell'Interland dedito prevalentemente alle estorsioni e con il quasi monopolio negli appalti pubblici il processo abbreviato è quello con rito ordinario sono scaturiti da due diverse operazioni nella DDA di Catanzaro una nel 2014 l'altra nel 2015 contro la consorteria Rango Zingali adesso i nostri 100 secondi di cronaca avrebbe nascosto al fisco più di 9 milioni di euro una società cooperativa operante su tutto il territorio nazionale sono state omesse la presentazione di alcune dichiarazioni fiscali e occultati registri e scritture contabili obbligatorie i finanziari hanno preso in esame una copiosa documentazione bancaria relativa ai conti correnti intestati alla società rilevando cospicue movimentazioni di denaro prive di ogni giustificazione economico contabile un vero e proprio arsenale d'armi è stato rinvenuto e sequestrato nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio in località villaggio argilla nord di reggio Calabria i carabinieri della compagnia cittadina supportati da due unità cinofile che dallo squadrone heliportato hanno controllato l'interno di un alloggio popolare disabitato ma munito di porta blindata armi e munizioni erano custodite in zaini e busse di plastica i carabinieri del gruppo di Locri hanno eseguito controlli e perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati inseriti nelle cosche di imbrangheta della zona le persone controllate sono state 97 in tale ambito i carabinieri di Bianco hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni di africo sorpreso mentre prelevava materiale inerte dal letto di una fiumara in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico un artigiano di 40 anni è stato arrestato a reggio Calabria dai carabinieri per detenzione di stupefacenti nel corso di una perquisizione effettuata nella sua officina di serramenti i militari dell'arma hanno trovato 100 grammi di marijuana la droga era conservata in un involucro completamente avvolto da nastro adesivo da imballaggio al fine di evitare che l'odore potesse attirare l'attenzione lo spettacolo adesso grande successo al Garden di Rende per la commedia di Carlo Bucirosso una famiglia quasi perfetta uno spettacolo che ha fatto registrare il tutto esaurito una commedia dal sapore agrodolce dove però a prevalere l'ironia e la risata grande successo e rende per lo spettacolo una famiglia quasi perfetta scritta, diretta e interpretata dall'attore partenopeo Carlo Bucirosso una serata che ha fatto registrare il tutto esaurito e la pièce non ha deluso le aspettative degli oltre 850 spettatori che hanno gremito il Cineteatro Garden la storia prende coinvolge e fa riflettere lui Bucirosso è un violento che ha scontato 24 anni di carcere per aver ucciso la moglie dopo aver lasciato le patrie galere pretende corrompendo un avvocato codardo ma esilarante che è il volto di uno strepitoso Gino Monteleone di riavere il figlio che fu adottato all'età di 6 anni da una famiglia per bene lui Troianello non sa che il figlio naturale interpretato da un badissimo Davide Marotta è affetto da un morbo che ne ha impedito la crescita straordinaria Rosalia Porcaro nei panni della mamma putativa che non teme le ire e le violenze del balordo ma se pensa che la mia donna sarà la mia dolce metà ma avvicino poco ogni personaggio disegnato con cura dalla penna di Bucci Rosso sembra cucito addosso all'attore che lo interpreta scenografie accuratissime dialoghi ricchi di battute tempi comici serrati per una commedia dove dramma e comicità si fondono ma se tutte risultano immature quindi non produttive in sostanza ci sarà un solo una mese uno soltanto che sarà destinato alla procreazione ecco nel caso suo non ce ne stanno a bugle grande apprezzamento dunque per la seconda serata di comicità in teatro evento promosso dall'assessorata alla cultura del comune di Rende grazie alla sinergia tra manager nazionali e imprenditori locali l'ottima risposta da parte del pubblico sottolinea l'assessore Vittorio Toscano dimostra e conferma che la comicità è una forma di comunicazione che racconta la realtà attraverso l'arma del sorriso c'è voglia di ridere pur continuando a riflettere e in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando l'investimento migliore deve puntare sulla cultura se non ha capito posso fare proprio schizzetta no TG che finisce qui l'informazione torna nelle prossime edizioni grazie per l'attenzione arrivederci e buona serata grazie per la visione